Sì? 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 Ok. Sì? 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 Ma no, ragazzi, state calmi che abbiamo ancora 2-3 giorni. Non può essere il primo partito, va bene anche se arrivate a seconda. No, no, siamo già il primo. Come forza unica siamo già il primo. Poi vinciamo le europee e poi andremo alle europee. Non lo so, è stato buono?